E così poi, ecco, così poi quando sono a casa ho sempre il maestro vicino. Signora Tettina, si metta pure lì vicino? E' anch'io. E certo, ci mancherebbe altro. Andiamo vicino allo spettino. Così poi, così poi, eh no, poi facciamo anche, prendiamo anche Tattina. E' il poltrono, il poltrono, il pigro, tu sei. Dov'è, dove è Pallina? Dov'è, dove è? Dov'è, eccola lì, eccola lì. Eh, eh? Eh, signora, aspetta, adesso ho 32 anni, diciamo che sono 15 anni che vengo qua. 15 anni, 15, 16 anni. C'ho tutte le registrazioni su ciò, la registrazione del nastro, c'ho la registrazione del nastro, su nastro magnetico, della prima volta che sono venuto con tutti i dischi. Ah sì? Perché io le stavo facendo vedere tutti i dischi e li sfogliavamo insieme. Ma io mi scappo di parlare un po' ieri. Vuol farle riprese. Era come mia madre, mia madre, come mia mamma si parlava. C'è Tattina? Sì, 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 sì. C'è Pallina, c'è Pallina. Sì, 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 ci sono tutti. Poi la prossima volta glielo porto. Guarda lassù, guarda lassù, guarda lassù. Eh, c'è la luce e gli dà fastidio. Eh? È bello. Eh, gli dà fastidio a me. Eh, gli dà fastidio a me. Eh, lo aveva da fare, lo aveva da fare, lo aveva da fare, lo aveva da fare, lo aveva da fare alla sua Diana. Eh? Eh? Ecco fatto. Una bella ripresa. Eh? Eh?